Oggi siamo qui per uno scoop, per capire come si allendano le nuove stelle del campionato italiano e naturalmente cercheremo di parlare con loro e di rubare qualche segreto. Eccoli, seguimi, seguimi, seguimi. Manolo, Manolo, cosa puoi dirci di questi allenamenti segreti? Non si dirà niente, qualcosa di infernale. Taglia. I turbe, i turbe! Seguimi a parlare qualche giocata speciale. Non ti entro, non ti entro. E svelaci qualcosa, i turbe! Il turbe ha messo il turbo. Vieni, vieni con me. Guarda qui. Zooma qui. Allora non sono da soli. Andiamo, vieni. Vieni, nascondiamoci qui. Eccoli! Guarda, c'è anche Perinne! Riprendi, riprendi tutto, riprendi tutto. Guarda, fanno la catapulta infernale. Dai! Questa la pubblichiamo subito Questa la pubblichiamo subito